Inizierà martedì prossimo 15 marzo nel plesso di Feudo Grande a Fiumefreddo di Sicilia il ciclo di incontri itinerante fra i vari plessi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga guidato dalla dirigente scolastica Luisa Leotta per approfondire assieme agli alunni la dilagante piaga dell'anaggismo. Gli incontri tenuti dalla dottoressa Veronica Musumeci delegata per la provincia di Catania da Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente sarà supportata dal dottore veterinario Giovanni Garofolo dalla dottoressa Esther Belfiore e dall'insegnante Mariangela Petrino rappresentante dell'Oasi del Randaggio di Mascali. L'importante progetto, sottolinea la professoressa Petrino mira alla conoscenza delle problematiche relative alla dilagante piaga dell'abbandono degli animali e alla sensibilizzazione dei piccoli discenti che per la loro giovane età sono i più adatti a fare propri comportamenti corretti e rispettosi nei confronti del mondo animale.